Ciao a tutte, oggi facciamo un video per farvi vedere questo nuovo marchio che ho avuto la possibilità di provare e che quindi vi faccio una piccola recensione. Allora, io ho qua tre campioni, tre barattolini di questa marca che è Nast Nile, ho anche il sigillante ma non l'ho ancora provato quindi non posso parlarvi del sigillante, appena lo provo vi faccio sapere com'è. Allora, visto e considerato che siamo ormai nella stagione calda, se non super calda, qua ci sono due monofasici, cioè sia il denso che è il medio. Allora, io non ho trovato grosse differenze tra medio e denso, sono tutti e due molto compatti. Allora, questo è il denso che in questa stagione è il top perché c'è una bollicina. ecco, questa qua adesso è la densità che ha questo gel. Ecco, io l'ho provato un mese fa e c'era ancora troppo freddo e ho fatto un po' fatica ad utilizzarlo. Ora che c'è un caldo bestiale, questo secondo me è la soluzione perfetta per chi ha problemi di gel che colano. Quindi non brucia, almeno io provandolo su di me che sono abbastanza sensibile, non brucia, niente lui è ancora qua e non si sta muovendo. Si pinza bene e quindi grossi problemi non ce ne sono. Questo qua è quello denso. Così vi do anche la possibilità di vedere. Ok. Quindi adesso vediamo quello medio. Allora, quello medio è pressoché uguale. Non c'è grossa differenza. appena appena un po' più morbido, ma poca roba. Quindi lui sta abbastanza fermo, insomma. Quindi ecco, è abbastanza mieloso perché comunque essendo così denso. Ok. Quindi queste sono le due versioni di questo marchio che lo trovate anche in internet. Poi vi metterò il link del sito dove potete acquistare questi gel. Poi c'è il cover tan. Questo mi è piaciuto tanto, tanto. Infatti il campioncino è quasi finito perché mi è piaciuto proprio tanto. Allora, il colore è super naturale. Come lo vedete qua nel video e anche in realtà... faccio cadere tutto. Quindi è abbastanza buona come densità, insomma. Non cola subito, subito. Si autolivella benissimo, non lascia le pennellate, non c'è bisogno di coprire con 100.000 gel semi coprenti. Quindi in un nanosecondo si fa l'allungamento senza grossi problemi. Prendiamo una tip che vediamo come viene. Se la trovo al lancio. Vediamo. Eccola qua. dunque. Così almeno ci rendiamo anche conto di cosa stiamo parlando. Eccoci. Piemellino. Insomma, il colore rimane bello naturale. Io adesso sto facendo non troppo veloce, ma quindi, insomma, si riesce tranquillamente a sistemare, a sfumare senza troppi super problemi. rimane anche, cioè, si riesce anche con uno step a fare un piccolo muretto, ovviamente, poi catalizziamo e, se vogliamo alzare un po', lo rifacciamo. Quindi il colore è naturale. E quindi questo è un ottimo prodotto, direi. Quindi anche questo. E non brucia, perché alcuni cover bruciano, ma questo no. Ed è anche costruttore, se non sbaglio. Almeno io ho chiesto a chi rivende questo prodotto e mi è stato detto che è un costruttore. Quindi possiamo anche fare tutta la struttura con questo cover che non c'è nessunissimo problema. Bene. Spero che questa piccola recensione vi sia stata utile. e ecco, questi qua sono i nomi dei tre prodotti. Poi, se volete acquistarli, basta che andate nel box informazioni sotto il video e troverete tutto quello che vi serve. Potete anche chiedermi, scrivendo dei commenti, che io poi vi rispondo. Grazie a tutti e al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!